Fanno che il comune principale è diventato capofilo in questo progetto proposto da una società che si chiama Open Fiber che è una società sovvenzionata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per portare la fibrottica in tutte le realtà piccole dove attualmente gli operatori telefonici non trovano conveniente raggiungere e dare un servizio aggiuntivo. Quindi portiamo la fibrottica nelle cosiddette aree bianche e lo facciamo con l'aiuto ovviamente di questa impresa in convenzione con la Regione Marche, con la provincia di Peso Rubino e dunque allargheremo la comunità e quindi la possibilità di accesso al web a tante frazioni che attualmente non sono collegate. Ora praticamente la fibra ultralarga arriverà a partire dai primi mesi del 2020, arriverà nelle frazioni che attualmente non sono collegate in tutti gli edifici pubblici e con armadietti di prossimità nelle frazioni di Ponte Sasso, Torrette, Metauriglia, Carrara, Cucurano, Torno, Cannelle, Falcinetto, San Cesario, Ferretto, Carignano, Magliano, Montegiove che ovviamente hanno più difficoltà, hanno case più rade rispetto alla città e quindi gli altri operatori tradizionali non trovano conveniente appunto vendere un servizio di fibrottica. Una buona notizia per la città che diventa sempre più connessa e quindi sicuramente queste frazioni troveranno grande giovamento.